Gerry Scotti, pseudonimo di Virginio Scotti, è un conduttore televisivo, conduttore radiofonico, attore ed ex politico italiano. È considerato uno dei volti più noti di Mediaset, insieme a Paolo Bonolis e Maria De Filippi, ed è considerato lo zio più famoso d'Italia, con il soprannome Zio Gerry. Il concorrente Pietro Faila, quando ha capito di essere entrato ufficialmente nella scuderia di Gerry Scotti, si è sciolto in lacrime. Maria De Filippi lo ha fatto notare al giurato. Ti interrompo solo per dirti che il tuo talento si è commosso. Si è messo a piangere dopo il tuo abbraccio. Scotti si è emozionato e ha pianto anche lui. Davanti a Luciana Littizzetto che ripeteva incredula, ma fa finta. Sabrina Ferilli lapidaria, ma qui ci è sfuggito tutto di mano cazzo. Ma perché ti sei commosso così? Il conduttore, però, ha preferito non rispondere? Non lo posso raccontare. Maria De Filippi per tirarlo su di morale ha fatto partire di nuovo la canzone Italo Disco. Anche il diamante più bello, più prezioso del mondo, quando è stato tirato fuori dalla terra era grezzo. Ci sono talenti che saltano all'occhio, e altri che bisogna capire, e io so che questa gente ha capito. Donne è arrivato il talento. Grazie. 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 Grazie.